Il P430, lo scafo che da un quindicennio troneggia l'ingresso nord di Civitavecchia, quasi a voler ricordare una delle tante beffe di cui è storicamente rimasta vittima la città, è di nuovo nella disponibilità dei proprietari, la Marine Goddess. Nell'udienza svoltasi martedì scorso al Tribunale di Lucca, il giudice ha accolto le tesi dei legali della Marine Goddess e disposto il dissequestro dell'imbarcazione che era stato decretato alla fine di giugno. A pesare nella decisione del giudice del Tribunale lucchese, la dottoressa Anna Martelli, la non-opposizione al dissequestro manifestata dai creditori della Marine Goddess, ovvero i maltesi della Konig, ex concessionari attuali custodi del cantiere Privilege. Konig pretende comunque il pagamento di tutte le spettanze dovute dalla Marine Goddess, anche se l'arcipelago societario del magnate nigeriano Nidal Chazi Karameh sembra avere non pochi problemi di ordine finanziario, essendo alle prese con diverse istanze di fallimento. Attraverso la sentenza è stata così dichiarata l'inefficacia dell'atto di sequestro e ordinata la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli. La Marine Goddess può quindi rientrare nella disponibilità dello scafo P430 e Konig deve consentire l'accesso nelle aree cantieristiche. Il giudice ha quindi ordinato alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia la cancellazione della trascrizione dell'ordinanza del 30 giugno scorso. Adesso si apre un nuovo ennesimo capitolo della tormentata vicenda. Alla luce dell'attuale situazione, Marine Goddess deve sgomberare l'aria trasferendo altrove lo scafo di sua proprietà. Si tratta di un'operazione dal costo stimato di 4-5 milioni di euro, una cifra ingente che difficilmente potrà essere coperta anche andando a vendere le singole componenti dell'imbarcazione. In questo contesto non semplice bisogna poi vedere che ruolo vorrà giocare l'autorità portuale che evidentemente sta comunque aspettando il risponso dei giudici amministrativi cui si è rivolto a Konig dopo la revoca della concessione. Insomma, la sensazione è che la vicenda ex privilege sia destinata a far parlare ancora di sé e manco poco.